Tommaso, parlaci un po' del tuo quartetto. Allora, questo è un quartetto che è nato, diciamo, strada facendo dal 2005 in poi. È nato con la collaborazione tra me e un chitarrista che ora abita in Francia, e si chiama Joris Vikenel. Inizialmente abbiamo cominciato a suonare i pezzi di Django Reinhardt e poi appunto ci si è aperta questa voragine sotto dell'universo delle musiche di tutta Europa e quindi abbiamo proseguito per strade molto eterogenee. Alla fine, diciamo, il gruppo si è stabilizzato su questa formazione, il giudizio è ritornato in Francia, è entrato Roberto che abbiamo conosciuto quattro anni fa e ultimamente al violino si è avvicendato Ruben. Qual è la vostra sensazione nel suonare una musica urbana come può essere questa in un locale come il Milestone? Ma le musiche che abbiamo suonato stasera in realtà provengono sì dalle città di tutta Europa ma anche dalle campagne di tutta Europa perché comunque è musica tradizionale e si presume che molti di questi pezzi abbiano origine anche nella civiltà contadina quindi in realtà sono pezzi che si adattano benissimo a qualsiasi ambiente. È la prima volta che suonate qui? È la prima volta che suoniamo a Piacenza, sì, è la prima volta. Quindi è la prima volta che vediamo questo locale bellissimo e siamo molto contenti.